Un tributo al genio di Ennio Morricone ed un omaggio all'opera più popolare di William Shakespeare portata in scena da una delle coppie più amate del teatro italiano. Musica e tragedia nel programma della sesta giornata del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Si comincia questa sera alle ore 19.30 con un concerto al tramonto dedicato al grande compositore Ennio Morricone, scomparso circa un anno fa, che si terrà sul piazzale antistante Castel del Monte. Un progetto curato dall'artista andriese Federica Fornabaio, che suonerà al piano assieme ad un'orchestra alcuni dei brani più famosi del maestro, noto per aver composto le musiche dei più grandi capolavori del cinema. Nella suggestiva atmosfera del maniero federiciano si aprirà una finestra sul grande schermo grazie alla riproposizione delle colonne sonore di Morricone e di altri celebri compositori per un viaggio indimenticabile tra cinema e musica. Sare invece Palazzo Ducale ad ospitare la prima regionale di Romeo e Giulietta, una canzone d'amore della compagnia Babilonia Teatri, nato dalla collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Due colossi come Paola Gasma, figlia del Grande Vittorio, ed Ugo Pagliai, portano sul palco della Kermess una delle opere più iconiche di William Shakespeare, partendo dalle vicende dei due sfortunati amanti, per poi rielaborare una nuova versione della tragedia che mette da parte tutto il contorno, come la rivalità tra le famiglie Montecchi e Capuleti. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15 con replica domani alla stessa ora.